Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, polemiche per lo sgombero di ieri a Montesilvano in via Ariosto, polemiche che diventano anche di natura politica con sinistra italiana che fa sentire la sua contrarietà mentre i consiglieri comunali di Montesilvano 2019 si definiscono favorevoli. Paolo Renzetti. A 24 ore dallo sgombero di via Ariosto a Montesilvano da parte delle forze dell'ordine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Maragno non si arrestano le polemiche tra favorevoli e contrari al blitz. Oramai da anni noi ci battiamo affinché quel quartiere torni a rivivere. La dignità dei cittadini che sono ancora lì hanno mantenuto la presenza nonostante lo scempio a cui sono stati costretti. Gli altri se ne dovranno fare una ragione e se hanno buoni propositi li mostrino. Io tra tutti gli suggerirei di portarseli a casa loro. Una situazione questa che durava da parecchio tempo. Il sindaco ha parlato di ritorno alla legalità però molte persone sono rimaste anche persone oneste. Tanti cittadini extracomunitari che lavorano in Italia tanti anni sono rimasti senza casa in mezzo alla strada. Per quelli noi sicuramente dovremmo in qualche modo fare un piano di integrazione sociale. Questo è poco ma sicuro. Rimane il fatto che per quei pochi che c'erano venerano molti che davvero manifestavano tutta l'indole del canonico delinquente spregiudicato. Basti pensare che ieri in sede di sgombero addirittura sono state riscontrate sostanze stupefacenti nonostante fosse risaputo che quel giorno lì le autorità sarebbero andate in loco per lo sgombero. Questo dimostra come costoro non abbiano alcuna voglia di integrarsi ma solo voglia di disintegrare la nostra società. La legalità si costruisce costruendo percorsi di integrazione, si costruisce favorendo il rapporto di serenità tra le comunità che vivono nello stesso territorio e non mandando 300 agenti facendo uno sgombero con gli elicotteri, facendo un blitz che ci ha portato sulle pagine regionali per un atto grave secondo me perché è un atto in cui la politica abdica alla legalità e alle forze dell'ordine. Invece la politica deve risolvere e cimentarsi con la soluzione dei problemi. Vorrei sottolineare una cosa e questo credo sia grave. Poco tempo fa è stato ritrovato un ordigno esplosivo a Montesilvano. Allora in un contesto secondo me che è caldo con quello del tessuto cittadino montesilvanese fare un atto del genere è secondo me molto grave perché continua a fomentare l'odio fra i poveri e l'odio fra chi vive lì il territorio e vuole appunto vivere pacificamente. Questo è secondo me un atto grave perché la politica non deve mettere le mani fomentando ma deve mettere le mani per risolvere e per costruire soluzioni pacifiche. Dopo il blitz interforze di ieri per lo sgombero di via Riosto a Montesilvano i senegalesi che vivevano nelle palazzine hanno protestato oggi davanti al comune. Una cinquantina i manifestanti che hanno presidiato la piazza del municipio sotto il controllo imponente delle forze dell'ordine. I senegalesi hanno criticato il sindaco Francesco Maragno che sei mesi fa ha firmato l'ordinanza che ha portato allo sgombero di ieri. Hanno chiesto di incontrare il primo cittadino che poi ha ricevuto un loro rappresentante. È da anni che vivevamo lì, lavoriamo e versiamo i contributi regolarmente da tanti anni, ha detto uno dei manifestanti. Diverse le richieste dei senegalesi c'è chi si chiede dove andare a vivere, chi vuole riavere i propri vestiti e oggetti personali e chi si lascia andare a veri e propri sfoghi dicendo di aver perso tutto. E intanto nell'ultimo consiglio comunale Lanciano ha deciso di aderire alla rete SPRAR. Il centro frentano è pronto ad accogliere fino a 90 migranti. L'iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa. Il comune di Lanciano aderisce alla rete SPRAR per accogliere al massimo 90 migranti. L'iniziativa è stata approvata a maggioranza nel corso dell'ultimo consiglio comunale. In conferenza stampa ha illustrato i dettagli l'assessore delle politiche sociali Dora Bendotti. Allo SPRAR verranno accolte solo quelle persone già valutate dal Ministero dell'Interno attraverso varie commissioni ed effettivamente riconosciute e aventi diritto all'asilo politico. Il numero massimo di 90 migranti da poter accogliere per una città come Lanciano deriva dalla media nazionale indicata di 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. A settembre il comune emanerà un bando europeo per la gestione triennale della struttura che sarà individuata dalla giudicataria. L'importo è di 3,5 milioni di euro, pari a circa 35 euro al giorno per ogni migrante ospitato per tre anni. Con l'apertura dello SPRAR è stato assicurato in conferenza stampa che non si potranno avere sullo stesso territorio comunale i centri di accoglienza straordinari a CAS, come quell'ora aperto a Villa Elce. Ad oggi i comuni abruzzesi aderenti alla rete SPRAR sono solo 7 su 305. Oggi sono estremamente orgogliosa e contenta di scrivere questa bella pagina di storia, una pagina che parla di solidarietà, di accoglienza, di amore. Attraverso un bando europeo verrà comunque affidato alla gestione dello SPRAR e questo avverrà entro il 30 settembre e poi dopo i tre mesi dalla giudicazione partire in maniera effettiva. Quindi diciamo che da gennaio Lanciano potrà effettivamente ospitare questi profughi. Colgo l'occasione per sgomberare dal campo ogni tipo di strumentalizzazione, soprattutto falsità. Non sarà il comune a trovare, a reperire strutture idonee all'accoglienza, ma aspetterà alla cooperativa vincitrice di gara trovare sul territorio una struttura appunto capace di ospitare il numero assegnato. L'ex ministro dell'istruzione del governo Berlusconi, Maria Stella Gelmini, oggi in città all'Aquila per la presentazione delle liste di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Biondi. Un bellissimo risultato il centrodestra Unito ha commentato, lanciando poi frecciate all'amministrazione attuale sul progetto case e non solo. Daniela Rosone. L'ex ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, oggi all'Aquila per sostenere la candidatura sindaco del capoluogo di regione di Pierluigi Biondi e presentare la lista di Forza Italia che parteciperà alla prossima tornata elettorale. Giovani, professionisti e anche molte donne, un centrodestra che all'Aquila dopo 15 anni si presenta Unito. Direi che è un grandissimo risultato l'unità del centrodestra, che non è un'unità di facciata, ma è un'unità di sostanza, di programma di governo. Siamo convinti di aver scelto Biondi, un candidato sindaco che ha la competenza da un lato, l'esperienza dall'altro, che conosce bene l'Aquila e quindi è la persona giusta per guidare il cambiamento. L'Aquila ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di innovazione, ha bisogno di una spinta propulsiva per affrontare la ricostruzione fino in fondo. Abbiamo visto il lavoro fatto dal governo Berlusconi, ma successivamente mi permetto di dire che si è perso molto tempo. Quindi occorre un sindaco efficiente, un sindaco che possa davvero interpretare il sentimento degli aquilani e anche le loro aspettative in un tempo di crisi, dove questa città evidentemente è ancora ferita dal terremoto e ha bisogno di un'amministrazione che faccia le cose. La Gelmini nel suo intervento ha ricordato anche il lavoro fatto all'Aquila da Silvio Berlusconi. Lei allora era ministro nel governo di centrodestra, ha ricordato la soluzione per le scuole e, pungolata dai giornalisti sui problemi di oggi al progetto Case, risponde così. Vedo che c'è un po' di prevenzione rispetto all'operato di Berlusconi. Io guardi, lascio giudicare gli aquilani. So che anche nel caso del terremoto di Norcia e di Amatrice i moduli di Berlusconi sono venuti buoni. Poi se c'è per carità una piastra che vacilla è un problema, sono anche passati molti anni e forse chi è venuto dopo Berlusconi doveva pure occuparsene. Non è che si può sempre dare la colpa a Berlusconi. Che ha fatto il governo Monti, Letta, Renzi, che si sono succeduti? Come è stata gestita l'emergenza di Norcia e di Amatrice? Io mi piace il confronto. Credo che dal confronto tra quello che è stato fatto all'Aquila, dove addirittura si è avuto la forza di organizzare un G8 e quello che è stato fatto successivamente in altri contesti colpiti dal terremoto, credo che l'Aquila ne emerga bene. Va tutto a posto? Va tutto bene? No. Evidentemente c'è ancora molto da fare e mi auguro che i governi si diano da fare come ha fatto Berlusconi e come abbiamo fatto noi in 100 giorni consegnando delle case che ancora oggi sono abitate. Si chiede alla Procura della Repubblica di Pescara, che indaga per un micidio colposo, di declinare la propria competenza in favore di quella della Procura della Repubblica dell'Aquila, competente per il reato più grave di disastro. Con queste parole affidate ad una nota, i legali Cristiana Valentini, Massimo Magneri e Goffredo Tatozzi, difensori del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, del tecnico comunale Enrico Colangeli e del comune di Farindola presentano istanza alla Procura di Pescara affinché tutte le indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano passino alla Procura dell'Aquila. E proprio all'Aquila, infatti, scrivono gli avvocati, che si sono realizzate le condotte del reato più grave di disastro. Il 12 marzo scorso i tre legali avevano presentato una denuncia contro la regione Abruzzo per disastro valanghivo doloso presso la Procura Aquilana. Al centro della denuncia la mancata realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da Valanga che, a giudizio della difesa di Lacchetta Colangeli e del comune di Farindola, la regione Abruzzo era tenuta a realizzare sulla base della legge 170 del marzo del 2014 e che, sempre secondo i tre legali, se fosse stata realizzata avrebbe evitato il disastro costato la vita a 29 persone. Ancora la cronaca era finito a processo con l'accusa di aver costretto per anni la figlia a subire abusi sessuali. Un'accusa dalla quale questa mattina l'uomo, un 48enne residente in Val Vibrata, difeso dall'avvocato Rossoli, è stato assolto dal Tribunale di Teramo con la formula perché il fatto non sussiste. I fatti contestati all'uomo che doveva rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dal grado di parentela risalivano ad un periodo compreso tra il 2007 e il 2014. Sono iniziate le azioni di protesta permanenti di alcuni sindaci della Valle Vestina della provincia di Pescara per la perdurante chiusura della strada provinciale 20 che di fatto taglia in due i territori impedendo di raggiungere a cittadini, imprese, studenti e malati la città di Pescara, se non passando da Chieti. Il servizio della nostra redazione di Vestina News. Pochi mesi dal primo incontro si torna a parlare ad alta voce della SP20, la strada che collega l'area Vestina alla Val Pescara. L'importanza di questo incontro? Cercare di trasmettere purtroppo a chi ha dimostrato in questi mesi di non avere un minimo di attenzione per questi territori il grido di dolore della cittadinanza, delle imprese, degli operatori economici che non riescono più a subire questa situazione. È intollerabile che istituzioni di un paese che partecipa al G7 a distanza di 4 mesi non siano in grado di elaborare nemmeno un'idea di soluzione, di un'interdizione dell'arteria più importante della provincia di Pescara attualmente interdetta, cioè quella che collega la Val Tavo alla Val Pescara. Dopo 4 mesi siamo stufi di parlarne. Cioè una strada provinciale così importante che di fatto impedisce a tutta l'area Vestina di raggiungere agevolmente le aree di interesse come Pescara, se non facendo il giro di tutto l'Abruzzo con un dispendio di tempo, di disagio e per le imprese di grandi risorse non può che essere una priorità. Ma siamo arrivati a scrivere al Prefetto e hanno fatto bene i sindaci della Valle Vestina e in particolare il sindaco di Pianella a dire al signor Prefetto, signor Prefetto purtroppo la politica che ci governa ha fallito perché non intende risolvere questo problema. Adesso devi convocare tu da Prefetto la Regione e la provincia perché siamo arrivati a un problema di ordine pubblico. Quali sono le soluzioni che voi avete messo in campo per risolvere questa situazione? Abbiamo segnalato la possibilità di un percorso alternativo con una strada a Valle, abbiamo individuato una quota di fondi che potevano essere prelevati, spostati da opere meno urgenti per mettere in essere il dissesto, abbiamo chiesto almeno un tamponamento delle situazioni di emergenza per aprire una carreggiata e non precludere il passaggio di tutti. Insomma abbiamo provato in ogni modo a offrire il nostro aiuto e il nostro consiglio ma pare che non ci si sente e allora a questo punto è giusto alzare la voce. Sporcizia, incuria e vandalismo notturno hanno reso la centralissima piazza Sant'Anna a Teramo un luogo degradato e insicuro. I residenti chiedono aiuto all'amministrazione comunale ma anche alle forze dell'ordine. Tania Bonici Castelli. Il colpo d'occhio è assolutamente imbarazzante. Sporcizia accumulata da settimane, manufatti di pregio di velti, panchine rotte, antichi muri scarabocchiati da scritte banali e stupide, urina e feci dovunque. Un degrado assoluto e non stiamo parlando di una zona isolata di periferia ma siamo nel cuore del centro storico di Teramo, via Torre Bruciata e piazza Sant'Anna. I problemi sono di igiene, devo dire, perché ecco in via Torre Bruciata fino all'angolo di via Nicola Palma per proseguire fino alla via che esce sul comune, ecco si utilizza come gabinetto. E per la sicurezza vi sentite abbastanza sicuri? No, perché questa zona è una zona buia, chiusa. Ogni tanto raramente passa qualche macchina dei carabinieri, è vero sì, però non è quello che ci salvaguarda dalle scorribande notturne. Voi chiedete anche maggiore decoro per questa piazza? Sicuramente, maggiore decoro e anche, perché no, qualcosa per i bimbi. Questa strada è imbrattata e viene imbrattata ogni notte, ma cosa si può fare, Assessore? Guardi, purtroppo non è solo questa strada, è tutto il centro storico che purtroppo di notte persone, ragazzi, minorenni, maggiorenni si divertono a scarabocchiare, a deportare quello che è il nostro quartiere, le nostre mura. Ma nessuno controlla? Allora, il problema è che nelle ore notturne il comune può fare ben poco, perché noi abbiamo i vigili nelle ore giustamente di mattina, le scuole, controllare le strade, le piazze nelle ore diurne. Di notte purtroppo abbiamo problemi di sicurezza. E sotto gli occhi di tutti che qui a Piazza Sant'Anne, nelle vie adiacenti, manca la pulizia giornaliera della Teama e non se ne capisce il perché. C'è scarsa manutenzione degli arredi esistenti, ma è anche vero che si riscontra un grado di vandalismo feroce, una volontà incontrollata da parte di giovanissimi a distruggere e arrecare danno. Noi cittadini dobbiamo dare un esempio, dobbiamo cercare di tenere pulita la piazza, la nostra piazza, e quindi dare una mano anche agli operatori. Sembra che ci sia quasi una volontà, soprattutto dei più giovani, a distruggere questo luogo. Questo purtroppo è un dato di fatto, è una cosa bruttissima, questa voglia di rompere. Qui purtroppo abbiamo tantissimi esempi dove c'è stata la volontà. E questo è un bruttissimo segnale, io spero che i ragazzi possano piano piano maturare e capire che è un errore. Il vandalismo giovanile è una piaga davanti alla quale Teramo ormai non può più chiudere gli occhi. L'aumento di telecamere è d'accordo, ma è sull'educazione civica e culturale alle nuove generazioni, che bisogna concentrare gli sforzi. L'insegnamento della musica e del ballo tradizionale potrebbe essere un primo passo. Dopo l'evacuazione di 24 famiglie dal progetto case di Coppito 2, il Comune dovrà controllare ora tutti gli edifici. A causa di una maxi infiltrazione d'acqua, la palazzina in questione sarebbe potuta crollare. Ancora problemi per il progetto case, questa volta dopo il crollo dei balconi alle Newtown di Ciasi di Preturo, tocca a Coppito 2, una maxi infiltrazione d'acqua documentata dalle immagini che ha messo in grave rischio il basamento della piastra. L'intera palazzina rischerebbe di crollare e così è stato immediatamente disposto lo sgombero per ben 24 famiglie. È stata la dirigente comunale Enrica De Paulis a spiegare la situazione. Nel corso della normale manutenzione ordinaria, l'ingegnere responsabile della squadra ha notato una spaccatura orizzontale in corrispondenza del basamento sul lato dell'edificio. Si è insospettito e ha fatto aprire. La struttura perimetrale portante, fatta di pilastrini di legno molto ravvicinati, era immersa nell'acqua ristagnata. È stato necessario fare un buco. Rimuovendo la pavimentazione si è capito che ha infiltrazione d'acqua piovana, che è penetrata alla base perché la guena di impermeabilizzazione non è stata fatta risalire a dovere come protezione. La struttura in legno è fatta bene, ma ha bisogno di una maggiore protezione. I pilastri alla base sono marci e si avvertivano degli scricchioli. Alcuni alloggi hanno avuto cedimenti evidenti. Abbiamo già allertato, ha detto la De Paulis, una struttura ricettiva in attesa di reperire gli alloggi del progetto case. È l'ennesimo esempio di cattiva esecuzione dei lavori. È la Cosbauspa, grande società di costruzione del Trentino Alto Adige, oggi però fallita, ad aver realizzato la palazzina 1 del quartiere del progetto case di Coppito 2. Il fatto emerge chiaramente dalle scale di realizzazione delle New Town della protezione civile. Cosbaus ha realizzato anche la palazzina 2, a questo punto la prima che dovrà essere sottoposta a dei controlli urgenti per vedere se ci siano lì gli stessi problemi, in particolare l'assenza di la guena protettiva. Ma Cosbaus ha realizzato anche due edifici a Cese di Preturo, un edificio a Paganica 2, quattro edifici a Pagliari di Sassa e tre a Sant'Antonio. Ovviamente tutti saranno sottoposti a controlli. Al via a Pescara i lavori in via De Cecco per la riqualificazione dell'arteria in zona Pineta, 100 mila euro a disposizione, vediamo. Consigli Leronghi, oggi in conferenza stampa avete annunciato a breve l'inizio dei lavori di riqualificazione di via De Cecco a Pescara, siamo in zona Pineta. Sì, sono lavori molto attesi in una zona molto importante della nostra città, sono lavori molto attesi perché si tratta di una zona che ha un deterioramento di asfalti, un marcio a piedi a causa delle radici, degli alberi che appunto fanno di questa zona una zona prestigiosa e bellissima da un punto di vista naturale della nostra città. Quindi sono lavori che costeranno circa un po' più di 100 mila euro con i quali rimetteremo a posto l'asfalto, i marci a piedi e miglioreremo la viabilità della zona. Quando inizieranno i lavori? I lavori inizieranno nelle prossime settimane, procederanno a piccoli lotti in modo tale da non intralciare la fruibilità della via e non arrecare disagio coloro che si regano al mare che è molto vicino alla via di Cecco. La prefettura di Chieti ha presentato il calendario degli eventi dedicati ai festeggiamenti di domani, 2 giugno. Due giorni di festeggiamenti e iniziative a Chieti per celebrare la festa della Repubblica e i suoi 71 anni, il 2 e 3 giugno del 1946. Infatti gli italiani furono chiamati a scegliere per la prima volta su Vragio Universale la forma di governo da dare all'Italia con il referendum istituzionale e uomini e donne scelsero la Repubblica. Il 10 giugno 1946 i risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione con il 54,3% pari a 12.717.923 voti, gli italiani scelsero di abolire la monarchia e far nascere la Repubblica. Per celebrare l'anniversario sono in programma giovedì 1 giugno. La tavola rotonda aspettando la Repubblica presso il Teatro Marruccino. Nel pomeriggio ci saranno le consegne delle varie onerificenze al merito della Repubblica e il 2 giugno si svolgerà la classica cerimonia con la deposizione di una corona ai caduti nella Villa Comunale. Le iniziative sono state illustrate dal prefetto Antonio Corona. Speriamo che sia un momento di grande partecipazione da parte dei cittadini innanzitutto perché ovviamente è importante il momento istituzionale in sé ma è anche importante che non sia chiuso in sé. Per noi è importante la partecipazione della gente, del cittadino ed è per questo che stiamo organizzando, come stiamo organizzando questa giornata. Guardate che se oggi noi siamo come siamo nel bene o nel male è per la Repubblica, è per la democrazia, per la libertà che sono stati introdotti insieme alla Repubblica e la stessa parità tra uomo e donna ha avuto un grossissimo impulso grazie proprio alla partecipazione al referendum istituzionale, anticipato dalle amministrative sicuramente, ma sicuramente il momento più importante è stato questo. e secondo me non si fa mai sufficientemente caso, non si dà mai sufficiente importanza alle cose che si hanno, bisognerebbe fare più attenzione. La libertà e la democrazia è iniziata tantissimi anni fa con i greci e non ha mai smesso di svilupparsi e di perfezionarsi, per cui non c'è un momento in cui si può dire bene abbiamo fatto la democrazia e la libertà. No, cambiano i tempi, cambiano le situazioni, l'importante è mantenere come si dice la barra al centro, sapere dove si vuole andare e questo comunque non è un movimento e un processo delegabile alle sole istituzioni, perché le istituzioni rappresentano la gente e se la gente non è con le istituzioni è viceversa, è più difficile il cammino. E ora parliamo della giornata che si è svolta a penne di chiusura stagionale dei progetti scolastici del CONI abruzzese. Hanno partecipato oltre mille studenti delle classi quarte e quinte delle scuole dell'area Vestina, oltre ad una scuola di ciascuna provincia di Pescara, Chieti e l'Aquila. Il servizio. Oggi una bellissima giornata di sport, qui a Penne con tutti questi bambini, una festa regionale. Sì, noi facciamo questa giornata di festa regionale dello sport di classe, che è un'attività di avviamento all'attività motore, più che all'attività sportiva, perché sono ragazzi della scuola primaria, quindi di terza, quarta e quinta elementare, che cerchiamo di coinvolgere nelle attività motore e nella speranza che poi possano anche continuare a fare sport al di fuori della scuola. Abbiamo pensato di fare questo evento finale qui a Penne per dare attenzione a questo luogo che è stato luogo di ricordo brutto per il periodo che c'è stato nelle nevicate di questo inverno per la tragedia di Rigopiano. I bambini stanno portando la loro energia, la loro vivacità, il loro sorriso, quindi devo dire che stanno dando vita a una giornata bellissima. Avviare anche questi bambini attraverso lo sport e la vita sociale? Assolutamente sì, direi che lo sport è un momento per loro di socializzazione importantissimo, è un momento di, speriamo che diciamo anche queste iniziative insegnino poi a continuare con l'attività sportiva tutta la vita, più che degli atleti devono diventare degli sportivi nei principi e anche nell'attività quotidiana. E da dopodomani il via ad Atri, le manifestazioni del Cerrano Film Festival e dell'Atri Cup, due mesi di grandi appuntamenti nella città ducale. Assessore Ferilcioni, oggi si parla della Cerrano Family Fest e anche dell'Atri Cup, manifestazioni importanti per la vostra città? Molto importante, grazie alla regione Abruzzo, appunto con l'Abruzzo Pendei, il comune di Atri, Pineto e Roseto assieme hanno creato una serie di eventi che si chiamano appunto Cerrano Family Festival. Ad Atri è stata affidata l'Atri Cup quest'anno è la 31esima edizione, parte appunto con l'Abruzzo Pendei per tutto il mese di giugno e si concluderà con lo spettacolo di Travaglio in Piazza Duomo il 2 luglio. Tanto sport, mini basket, calcio, mini volley, sono tanti tornei nei nostri centri appunto sportivi ma c'è molta cultura, tanta cultura. Partiremo il 2 con Shakespeare in teatro comunale dove i ragazzi della scuola di Atri appunto hanno allestito il sogno di una notte di mezz'estate, poi ci sarà la nazionale basket in carrozzina che giocherà al centro turistico integrato, tanti altri eventi, la Corsa di Mighelle, ecco il 3 ad Atri da Roma, appunto la Corsa di Mighelle si è spostata in Atri e ci sarà appunto una staffetta a 10, ci sarà una testimonial d'eccezione alle ore 19 per la premiazione della Corsa di Mighelle che è Fiona May e il 4 giugno in Piazza Duomo alle ore 21 ci sarà appunto lo spettacolo di Roberto Vecchioni che presenterà il suo libro. Sempre Vecchioni terrà un concerto in Piazza Duchi d'Acqua Viva ad ingresso gratuito e concluderà la Tricap il 2 luglio come diceva appunto Marco Travaglio in Piazza Duomo. Lo sport, parliamo di Pescara, tanti i nomi per l'attacco e proprio su questo reparto, sui possibili acquisti ci concentriamo nel prossimo servizio. Dialoghi e trattative in fase di allestimento prima dei movimenti ufficiali veri e propri. Il Pescara pone le basi per il campionato del riscatto e la dirigenza del Delfino è all'opera per consegnare a Zeman giocatori da plasmare nel suo progetto calcistico. Per l'attacco sono in corso colloqui con il Milan per il prestito di Luca Vido. L'attaccante classe 97 ha disputato un bel finale di stagione col Cittadella e potrebbe migliorarsi sotto la cura del tecnico Boemo. Se Vido è la classica prima punta ben strutturata fisicamente, nel calcio di Zeman hanno un ruolo fondamentale i due esterni, Già fatta da tempo per Mancuso dalla San Benedettese, il Delfino è vicinissimo al fratello d'arte Roberto Insigne, che potrebbe ricalcare le orme di Lorenzo in Rival Adriatico. Insigne cerca la stagione della svolta dopo l'annata condita da alti e bassi a Latina. In tal senso sono arrivati segnali confortanti dal Napoli, club di appartenenza di Roberto Insigne, visto che il presidente della Volentis ha dichiarato che avrebbe piacere di dare a Zeman il calciatore ed anche il manager di Insigne Junior, Ottayano, ha espresso pieno gradimento per la destinazione adriatica. Da un partenopeo ad un altro, nel merino del Pescara è finito anche Antonio Bacio Terracino, altro profilo ideale per il calcio zemaniano. È stata una delle poche note liete della stagione del Lumezzane, appena retrocesso in D dopo il play-out con il Teramo. Reduce da una buona stagione con 9 gol all'attivo, Bacio Terracino si svincola dalla compagine bresciana. Su di lui ci sono gli occhi anche di altre squadre, fra cui il Bologna. Sempre per l'attacco, sondaggio con l'Atalanta per Giuseppe De Luca e per il giovanissimo classe 99 Cristian Capone, mentre gli orobici a loro volta hanno chiesto informazioni su Mamadou Koulibaly, per il quale però già sono stati aperti dei canali con Juventus e Milan. Sempre dal Milan, ma per il reparto di centrocampo, l'interesse è forte per Matteo Pessina, che quest'anno il club rossonero aveva girato in prestito al Como in Lega Pro, distinguendosi per un ottimo rendimento e per un cospicuo apporto in zona gol, con 9 reti in 35 partite. Un altro giovane ideale, classe 97, da poter far crescere sotto gli insegnamenti di Zeman. In Lega Pro ora parliamo di Teramo, è quasi fatta per il nuovo direttore sportivo, quasi certamente sarà Sandro Federico per la panchina in pole position. Ottavio Palladini, Jacopo Forcella. Il Teramo sembra ormai aver scelto il suo prossimo direttore sportivo. A meno di clamorose sorprese, sarà Sandro Federico a sedersi dietro la scrivania biancorossa per costruire la formazione della prossima stagione. In realtà l'accordo, quello verbale c'è già da qualche tempo, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E in caso di fumata bianca da quel momento in avanti, Federico spetterà a scegliere in accordo con la società il nome del nuovo allenatore. Tutti gli indizi, almeno per il momento, portano ad Ottavio Palladini, che con Federico ha un rapporto consolidato e che a San Benedetto ha dato i suoi frutti, finché i rapporti con il presidente Rossoblu Fedeli non si sono deteriorati. L'ufficialità dell'arrivo di Federico a Teramo arriverà nei prossimi giorni, magari già all'inizio della prossima settimana, e poi il diavolo dovrà sciogliere anche la riserva sul tecnico. Ci sarebbe anche l'opzione Luca D'Angelo, reduci dall'esperienza Bassano. In questo momento però c'è anche una piazza in fibrillazione, che attende con ansia le prossime mosse di Campitelli, che potrebbe parlare presto e chiarire le linee per la prossima annata, prima di prendersi un piccolo periodo di vacanza. Nel frattempo dovrà già aver sistemato l'assetto societario e tecnico, in modo da arrivare ai primi di luglio con una squadra che abbia già una parziale, ma nuova fisionomia. Anche perché il Teramo l'anno prossimo non potrà davvero più sbagliare. E finisce qui la seconda edizione del TG6. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21, con la trasmissione Velo, con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Il nostro settimanale è dedicato al mondo del ciclismo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!